cerchio esseno alexander dicembre 2022 alexander salve risposta tutti salutano alexander è molto bello risentirci come è stato per tanti anni e non dovete mai pensare che noi vi abbandoniamo anche se vi ripetiamo vivete queste esperienze come se fosse l'ultima perché non sappiamo quale sarà il futuro prossimo capite questo risposta tutti sì alexander abbiamo agito bene anche questa volta in quanto abbiamo indotto la transe immediatamente lo strumento era un po preoccupato risposta ci siamo comportati bene però alexander devo dire di sì a parte il fatto che molti di voi hanno del rancore dentro perché durante l'intervallo tra un incontro e l'altro molti di voi hanno ceduto alle debolezze terrene litigando per esempio vero anna risposta sì alexander dovete essere più comprensivi l'uno verso l'altro questo mi raccomando sempre non dovete far prevalere sentimenti negativi dunque vedo con piacere che sono venuti con piccolo sacrificio anche i nuovi adepti vogliamo chiamarli così ma questo non è come posso dire adepti è sbagliato i nuovi amici vero ilaria risposta sì alexander bene questa sera mi è stato dato l'incarico che io ritengo per me molto gradito di portarvi come benvenuto dei doni dunque aspettate perché ho difficoltà era tanto che non incorporavo e quindi devo trovare vi siete messi molto lontani vero perché devo trovare il passaggio abbiate pazienza risposta se mi posso avvicinare ti tolgo una sedia alexander non vi preoccupate debbo io abituarmi di nuovo ad usare la vista dello strumento se ben ricordata e non abbiamo mai avuto difficoltà vero è difficile non pensavo di incontrare difficoltà di questo genere io credo di poter non toccatemi vi prego io posso toccare voi ma voi no altrimenti potreste averne dei danni giulio come ti senti al buio risposta molto bene alexander mi vedi bene risposta no non ti vedo però ti sento alexander io invece devo passare ecco ci riesco bene vi siete messi proprio in un angolo mi dispiace allora cominciamo con ilaria dolce ilaria avete goduto della buona vacanza risposta sì alexander metti le tue mani a coppa finché le energie sono integre noi possiamo adesso mia dolce amica ti è stato rivelato parzialmente il tuo passato e quindi uno di questi due doni ti ricorderanno che tu sei stata o meglio devo dire sei stato un abile nocchiero sai cos'è un nocchiero un pilota di nave colui che governava il timone questo oggetto te lo ricorderà puoi portarlo appeso al collo oppure no risposta sicuramente alexander bene e l'altro invece per la tua gentile figura odierna sei una gentile fanciulla e quindi mi è gradito portarti un piccolo anello lo puoi dare alle tue figlie se vuoi come vuoi tu ora si sta materializzando perdonami non posso farti la luminosità perché non ci sono abbastanza energie altrimenti ti farei vedere come si forma l'energia luminosa l'oggetto come hanno visto molti vero so che a voi fa piacere in futuro riuscirò a farlo quindi vedrete come si forma un apporto mi raccomando chiudi dopo che ti ho dato i doni chiudi le mani a coppa in modo che continui a formarsi perché la formazione è lenta risposta grazie alexander il tuo compagno è curioso di vedere cosa porto per lui ma non è un mio dono te lo manda un tuo parente e dalla data che troverai incisa dovrai capire chi è lui non vuole dire chi è per non influenzarti e la figura che è rappresentata in questo oggetto significa che tu devi essere agile e aggressivo nel modo giusto nella vita metti le tue mani eccomi scusami ma vi siete infilati proprio in un cunicolo alexander ha difficoltà ad avvicinarsi a giulio per lo spazio ristretto ecco non vorrei rovinare tutto perché le energie non sono molte e noi dobbiamo hanno dato l'incarico a me perché io sono quello che riesce di più a manovrare e utilizzare l'energia per formare gli oggetti perché noi l'oggetto è esistente in natura lo dobbiamo smaterializzare da dove ci dicono di prenderlo e poi dobbiamo di nuovo rimaterializzarlo ecco il processo incredibile e molti lo hanno visto ricordate alfredo che ha potuto fotografarlo tanti anni terreni sono passati e noi con voi e vi devo dire non so quanto futuro avrà ancora questo meraviglioso cerchio ma molte entità che erano vostre guide si devono incarnare reincarnare capite ecco ci sono riuscito e piccolo ma siccome è particolare non vorrei rovinare ecco ricorda la data bene chiudi bene le mani grazie 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 tu sei molto dolce sento una forte emozione e questo mi riempie di gioia perché l'emozione è il sentimento più vibratorio che c'è per una entità incarnata capite senza la materia non potrebbe uno spirito provare emozione mi costringete ora a fare il percorso inverso però sto cominciando ad abituarmi quanti pensieri ci sono in questa testa rivolto ad emilia risposta tanti alexander lo so e specialmente quando pensi ai tuoi vero risposta sì alexander ma ricorda le parentesi terrene si chiudono e quello che è più importante di tutto è che la vita continua nello spirito non ho travolto nessuno vero bene ma c'è sempre tempo mi avete proprio chiuso in un vicolo non trovo più la strada dario ragusa non è vero alexander a non ci credi e perché non ci credi vieni qua tu birbantone non stare sempre a testa china si orgoglioso alza la testa perché devi essere tu la guida della parte umana di questo cerchio ti abbiamo sempre detto che il cerchio esseno è fatto da noi entità disincarnate e da voi esseri umani voi siete il gruppo e noi siamo il complemento di questo gruppo momentaneamente vi lascio